Granger dietro la schiena, pick and roll con Mitchell Watt e trova il terzo uomo con il tocco da parte di Citan, Parks va fino in fondo, subisce il fallo, trova i due punti, grande ingresso in campo che prende la linea di fondo, subisce il contatto falloso da parte di Aralan Populos, segna i due punti, andrà in lunetta col tiro libero, supplementare. Per quanto riguarda questo incontro e anche Moretti, ora Parks nell'angolo, mette palla per terra, va fino in fondo, Parks appoggia la tabella, 19 a 2, una macchina, prova lui la penetrazione, finta di passaggio, Parks mette palla per terra contro Citan che tiene il primo passo, la parte di Parks che poi si avvita. Ti rigustiamo proprio l'avvitamento di Parks, non si poteva fischiare, anche fallo di Pico. Spisso, finta di andare da Parks, ora ci va davvero dall'americano, Parks a sportellate, appoggia un altro canestro al vetro.